Tutto un tempo era nero. Una paura invisibile si estendeva fino ai confini a sud del nostro enorme paese, la grande madre Russia. Il primo di questi mostri giunse nel nostro paese dalla Turchia era conosciuto con il nome di Vampiro Nero. Minacciava le povere famiglie di contadini, distruggeva i raccolti e spesso i figli più piccoli sparivano nel bosco. Allora Gorsha, un padre severo, stanco dei soprusi del Vampiro Nero, decise di andare a cacciarlo una volta per tutte. Grazie a tutti.